Un tempo seguivo dottrine più logiche, studiavo al dettaglio con le prove pratiche, le dimostrazioni scientifiche, pura realtà. Non tollerò più i paragoni genetici, adesso parliamo di termini medici, non sono qui a raccontarvi una favola. Una pazzia che ho scoperto geniale in fondo, andando a studiare gli appunti giorno per giorno, rendersi conto che non è così logica, quale esperimento inizia dal successo? Adesso maneggio le formule empiriche, scientifiche, mediche, blasfeme nell'etica, ma dimostrazioni più pratiche della realtà. Cervelli e cortecce tranciate di netto, riunite per recuperare l'intelletto, che abiti un corpo di nuovo, ora realtà. Una pazzia che ho scoperto geniale in fondo, andando a studiare gli appunti giorno per giorno, rendersi conto che non è così logica, quale esperimento inizia dal successo? Quale esperimento inizia dal successo? Quale esperimento inizia dal successo?